Ciao bambini! Siete pronti per un ballo spassosissimo in discoteca? Allora seguitemi! Io ho una zia, una zia che sta fuori, che quando va a ballare con il ginocchio fa così, 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 con il piede fa così. Io ho una zia, una zia che sta fuori, che quando va a ballare con il ginocchio fa così, 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 con il ginocchio fa così, 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 con il piede fa così, 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 con il piede fa così. Io ho una zia, una zia che sta fuori, che quando va a ballare con il ginocchio fa così, 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 con il ginocchio fa così, 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 con il ginocchio fa così, 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 con il piede fa così. Io ho una zia, una zia che sta fuori, che quando va a ballare con il ginocchio fa così, 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 con il ginocchio fa così.